N26 sta per chiudere? È questa la domanda che sta facendo il giro della rete negli ultimi giorni, dopo che la Banca d'Italia ha imposto ad N26 di non permettere l'apertura di nuovi conti. Se avete cliccato questo video vi sarete sicuramente accorti che entrando nel loro sito si trova questa scritta in alto. Ed inoltre non è più presente il pulsante Crea Conto e dal suo posto è spuntato un pulsante di lista di attesa. C'è da preoccuparsi? Cosa sta succedendo ad N26? Se avete familiarità con il mio canale saprete dove andremo a parare. Le criptovalute. Pare proprio che per via delle criptovalute, o per meglio dire di un fatto legato ad esse, il riciclaggio di denaro, la Banca d'Italia abbia imposto ad N26 questo limite. Per chi non sapesse cosa sia il riciclaggio di denaro, è una pratica illegale per mezzo della quale vengono immessi soldi nell'economia provenienti da attività illecite, che siano soldi non dichiarati o provenienti da attività criminali. Già da un po' di tempo sul sito di N26 sono iniziate ad apparire articoli sulle criptovalute e la banca tedesca stava infatti iniziando ad avvicinarsi a questo mondo. Sembra però che non abbia rispettato tutte le normative anti-riciclaggio, normative alle quali tutti gli istituti finanziari devono sottostare, come seguire l'approccio Know Your Customer, ovvero fare un profilo dell'utente e tenerlo d'occhio. Se ad esempio ho fatto un lavoro da 1000€ al mese, ma ogni mese e magari lo stesso giorno di quel mese depositate in contanti 300€, potrebbe scattare un alert, oppure potrebbe scattare se sul vostro conto muoveste più soldi di quelli che avete dichiarato di avere. Ovviamente queste, più tante altre, sono tutte pratiche anti-riciclaggio e sembra che N26 non abbia rispettato appieno queste normative, anche se non sappiamo di preciso quali. C'è davvero il rischio che N26 ci chiuda i conti, oltre a non permetterne la nuova apertura? Io non credo. Probabilmente una volta che avranno sanato queste mancanze, dovranno sicuramente pagare una multa, ma io dubito fortemente che questa multa possa far fallire la banca. Possiamo fare un confronto con la banca aranciolandese, quella che fino a poco tempo fa era sempre nelle pubblicità televisive, per intenderci. Loro ebbero un problema simile, e per risolverlo ci volle moltissimo tempo, oltre a dover pagare una multa di 30 milioni. Che sì, sono molti soldi, ma se pensiamo a un colosso di banca sono tranquillamente fattibili. Ed io penso che lo stesso, anche se ovviamente non so la cifra, accadrà da N26, la quale tra l'altro sta già collaborando con la Banca d'Italia per risolvere queste mancanze. Quindi io personalmente non credo che avremmo brutte sorprese. Oh raga, nessuno mi ha pagato per dire questo, eh? Anch'io sono cliente N26 e detengo i soldi sul conto. E non ho la matematica certezza di questo, ma lascerò i miei soldi lì dove sono. Perché oltre al blocco dell'apertura dei nuovi conti, non è cambiato nulla. La banca è sempre sicura, è sempre possibile effettuare dei pagamenti, ed i soldi, così come i depositi, sono sempre al sicuro. Questo è la stessa banca N26 a dircelo. Speriamo che tutto si risolvi il prima possibile, ma restiamo comunque calmi. I nostri soldi sono sempre lì, e i servizi sono sempre funzionanti. L'ultima transazione l'avrò effettuata questa mattina. Adesso passiamo a chi di voi ha la necessità di aprire un conto, e non può farlo presso N26. Vi conviene o vi serve davvero aspettare che N26 possa ripermetterne l'apertura? Tenendo in mente che non c'è un tempo entro il quale il problema sarà sicuramente risolto. Potrebbe volerci un giorno come anche 6-8 mesi. E considerando che se volete aprire un conto questo vi serva subito, o quasi, io sceglierei un competitor. Ci sono talmente tante alternative, sempre gratuite, ad N26, che io penso sia uno spreco di tempo aspettare un tempo indefinito per l'apertura di un conto. Ci sono ad esempio Buddy Bank o Revolut. Non ho nessun interesse nel consigliarvele, tant'è che Revolut non la posseggo nemmeno. E soprattutto non ho nessun codice per nessuna delle due attualmente. Almeno adesso loro non hanno problemi nell'apertura dei conti, e questa apertura è anche relativamente veloce. Tra l'altro, se siete interessati all'ambito delle criptovalute, Revolut è molto vicino a questo mondo. E sul loro sito, oltre a fornire svariati articoli di informazione su questo argomento, hanno anche un servizio che permette di comprare e vendere criptovalute direttamente da loro, con svariate funzionalità molto carine. Mentre Buddy Bank, oltre a non fornire nessuno di questi servizi, si è anche trovato al centro di una bofera mediatica, dopo la pubblicazione di un tweet che vedeva la Unicredit, ovvero la banca alle spalle di Buddy Bank, che diceva di non permettere agli utenti di relazionarsi con gli exchange. Però poi la Unicredit si è scusata per i toni di quel tweet, e ha ribadito che non inibisce in nessun modo le transazioni dagli utenti verso gli exchange di criptovalute. Ovviamente questo non è per demonizzare Buddy Bank, ma anzi, per scagionarla da tutte quelle dicerie che circolano sul suo conto recentemente. Se avete altri dubbi, oppure altre domande, lasciatele qui nei commenti, e apriamo un dibattito. E vi chiedo di lasciare like per farmi capire di esservi stato utile in qualche modo. Se siete interessati a questo mondo, alla blockchain, agli NFT, o alla finanza personale, non dimenticate di seguirvi e soprattutto di attivare la campanellina per essere sempre i primi ad essere aggiornati e per aiutare la crescita di questo canale. Nel mio banner trovate altre informazioni interessanti, come la mia collezione di NFT, il mio GitHub o il mio Instagram. E a proposito, seguitemi anche lì, e ciao!